Una medesma lingua pria mi morse, sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse. Così odio che solea far la lancia d'Achille e del suo padre, esser cagione prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone, su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Qui vera men che notte, men che giorno, sì che il viso mandava innanzi poco, ma io sentii sonare un alto corno, tanto che avrebbe ogni tuon fatto fioco, che, contra sé la sua via seguitando, dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perde la santa gesta, non sonò sì terribilmente orlando. Poco portai in là volta la testa, che me parve veder molte alte torri. On Dio maestro, di, che terra è questa? Ed egli a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi, avvien che poi nel maginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, quanto il senso s'inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi, caramente, mi prese per mano, e disse, pria che noi siam più avanti, a ciò che il fatto menti paglia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'umbilico ingiuso tutti quanti. Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco a poco raffigura ciò che cela il vapor, che l'aere stipa. Così forando l'aura grossa e scura, più e più appressando ver la sponda, fuggiemi errore, e crescemi paura. Però che, come sulla cerchia tonda, monte Region, ti torri si corona, così la proda che il pozzo circonda, torreggiavan di mezza la persona, li orribili giganti, cui minaccia giove del cielo ancora quando tuona. E io scorgeva già dal cum la faccia, le spalle e il petto, e del ventre gran parte, e per le coste giù ambo le braccia. Natura, certo, quando lasciò l'arte, dissi fatti animali, assai fei bene, per torre tali esecutori a Marte. E se la dellefanti e di balene non si pente, chi guarda sottilmente, più giusta e più discreta la ne tene. Che dove l'argomento della mente s'aggiugna al malvolere e alla possa, nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa, come la pina di San Pietro a Roma, e a sua proporzione eran l'altre ossa. Sicché la ripa, che era perizoma dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto di sovra, che di giugnere alla chioma tre frison saverì endato malvanto. Però chi ne vedea trenta gran palmi, dal loco in giù dove amo affibbi al manto. Raffelmaia me che zapì al mi, cominciò a gridare la fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi. E il duca mio ver lui, anima sciocca, tienti col corno e con quel ti disfoga, quand'ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa, e vedi lui che il gran petto ti doga. Poi disse a me, e gli stessi sa cosa, questi è nembrotto, per lo cui malcoto, pur un linguaggio, nel mondo non s'usa, lascianlo stare e non parliamo a foto, che così è a lui ciascun linguaggio, come il suo ad altrui, cannullo e noto. Facemmo adunque più lungo viaggio, volti a sinistra e al trar d'un balestro, trovammo l'altro, assai più ferro e maggio. A cigner lui, qualche fosse il maestro, non so io dir, ma è il tenea soccinto, dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, d'una catena che il tenea ha avvinto, dal collo in giù, sì che in su lo scoperto, si ravvolgea infino al giro quinto. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro al sommo giove, disse il mio duca, ondelli a cotal merto. Fi alte a nome, e fece le gran prove quando i giganti fer paura a tei, le braccia che il menò giammai non muove. E io a lui, s'esser puote, io vorrei che te lo smisurato briareo, esperienza avesser gli occhi miei. Ondè rispose, tu vedrai Anteo presso di qui, che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni erreo. Quel che tu vuoi vedere, più là è molto ed è legato, è fatto come questo, salvo che più feroce parne il volto. Non fu tremoto già tanto rubesto, che scotesse una torre così forte, come fi alte a scuotersi fu presto. All'ortemettio più che mai la morte, e non vera mestier più che la dotta, se io non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avante a lotta, e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, senza la testa, uscìa fuor della grotta. O tu, che nella fortunata valle, che fece Scipion di gloria reda, quando Anibalco suoi diede le spalle, recasti già mille leon per preda, e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, ancor par che si creda, che avrebbero vinto i figli della terra. Mettine giù, e non tenvegna schifo, dove cocito la freddura serra. Non ci fare ire a tizio né a tifo, questi può dar di quel che qui si brama, però ti china, e non torcerlo grifo, ancor ti può nel mondo render fama, che il vive, e lunga vita ancora aspetta, se innanzi tempo grazie a sé non chiama. Così disse il maestro, e quelli in fretta le mandi stese, e prese il duca mio, onde Ercole sentì già grande e stretta. Virgilio, quando prendersi sentìo, disse a me, fatti qua, sicch'io ti prenda. Poi fecesi c'un fascio era egli e io. Qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressasi, che della incontro penda. Tal parve anteo a me, che stava a bada, di vederlo chinare, e fu talora, chi avrei voluto ir per altra strada, ma lievemente al fondo, che divora Lucifero con Giuda, ci sposò. Nessì chinato, lì fece dimora, e come albero in nave, si levò. Trentunesimo canto No, lasciarsi imbambolare dall'avacua rissosità di due falsari, che non han di meglio da fare che scambiarsi simmetrici, improperi, non fa onore al pellegrino, destinato a santificare la parola, registrando l'itinerario dell'uomo alla salvezza, e verbalizzando la percezione di Dio. Ma la commedia è anche la storia documentale, il diario della propria scrittura, si scrive cancellandosi. E per sbarazzarsi delle basse seduzioni della tensione poetica, genere in cui si era pur attardato e distratto anni prima, ne riparleremo in purgatorio, Dante deve trascriverne un condensato in queste carte sante, né altri che Virgilio, maestro supremo del bello stilo con cui Dante si è poi fatto onore, ha titolo per rimproverargli da dentro quelle oziose destrezze letterarie e depennarle col perdono. Così la lingua medesima che prima lo aveva ferito e fatto arrossire, ora medica il pellegrino. E, per l'occasione, il poeta che non doveva avere a mente il Parsifal, estrae dal repertorio ovidiano la figura della lancia d'Achille e di suo padre Peleo la quale soleva esser cagione prima di trista e poi di buona mancia che deteneva cioè la singolare proprietà di guarire dalle piaghe che aveva elargito. Girate le spalle all'azzaretto della Bolgia decima, i due rimontano ora la scarpata e si avviano a traversare in diagonale l'argine che delimita internamente l'anello in mane di male Bolge senza aprir bocca. Di poco li precede lo sguardo in quella foschia crepuscolare che è più fiacca della luce del giorno più spessa del buio della notte quando un suono di corno così lacerante da umiliare il rombo dei tuoni ecco orienta gli occhi del pellegrino a risalire verso la fonte sonora. Dopo la dolorosa rotta quando Carlo Magno perdè la santa gesta non sonò sì terribilmente Orlando detta il poeta evocando uno degli episodi più famosi della chanson de Roland famosissimo fra i cantari in lingua d'oil nell'agosto dell'anno di Cristo 778 come si sa le moltitudini dei saracini di Spagna istruite dal traditore Ganno di Maganza han circondato e sopraffatto nel valico di Roncisvalle Pirenei Baschi la retroguardia dell'armata cristiana capitanata dal conte Orlando allo stremo il paladino porta alla bocca il corno Olifan con gran potenza lo suona con pena e con affanno con dolore grande gli spiccia per la bocca sangue chiaro il cervello gli crepa le tempie la lunga voce del corno scantona nelle gole dei monti per trenta miglia fino a raggiungere Carlo che marcia in terra di Francia con il grosso dell'esercito ma Ganno minimizza Ganno rallenta il soccorso e nel valico maledetto l'imperatore non troverà che cadaveri ammazzato è Orlando e ammazzati tutti quei molto nobili baroni e paladini che la fede aveva accomunato in fratellanza ad armi la santa gesta a tradimento volto il capo e puntato lo sguardo a rimontare il brivido del suono sembra al pellegrino di intravedere la cinta turrita ad una città il maestro lo disinganna la lontananza e le tenebre hanno fuorviato la sua immaginazione pervenuto laggiù si accorgerà dell'errore dunque allunghi il passo ma poi caramente lo prende per mano tanto che andiamo dice perché la constatazione non abbia a sbalordirti sappi che non son torri ma giganti giganti disposti giro giro nel pozzo al ridosso dello strapiombo che li nasconde dall'ombelico in giù quanto son lunghi come al diradarsi della nebbia lo sguardo a poco a poco raffigura quel che il vapore avviluppava così forando l'aura grossa e scura e avvicinandosi man mano all'orlo dell'argine a misura che scema l'inganno cresce nel pellegrino la paura paura che però in qualche modo rilegittima l'inganno torri non erano no ma orrendi giganti i quali come monterigioni corona di torri la cerchia tonda delle sue mura torreggiavan di mezzo alla persona la proda circolare del pozzo torreggiare transitivo varrà scandire di torri turrire anche da vicino insomma allo sgomento di dante sembravano torri gigantesche quei giganti torreggianti che giove continua a minacciare dal cielo quando tuona monterigioni e la piazza forte in valdelsa che i senesi avevano costruito agli inizi del tredicesimo secolo per pararsi da firenze e che ancora oggi troneggia un po' smozzecata su un collicello attiguo alla via cassia Dante ormai distingue bene la faccia di uno le spalle e il petto e buona parte della pancia e le due braccia a penzolo le membra in mani del gigante gli ispirano considerazioni molto timorate quando la natura cessò di produrresi infatti bestioni fece benissimo in quanto privò il dio della guerra di quella spaventosa risma di miliziani e se lei la natura si ostina a generare elefanti balene e quanti altri mastodonti chi guarda sottilmente non potrà che lodarsi della sua equità e del suo buonsenso infatti solo dove lo strumento della ragione l'argomento della mente si sommi alla volontà di male e alla possa fisica non c'è scampo per il genere umano per rendere una qualche idea della mole spropositata dell'omacione il poeta si diffonde in minuziose stime a occhio tralasciando stavolta le minuzie vediamo di trascrivere i dati nel sistema metrico decimale dunque la testa del gigante è lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma collocata oggi entro il cosiddetto nicchione del bramante nel cortile vaticano cui presta il nome quest'antica pigna di bronzo misura in altezza 4 metri abbondanti ai tempi di Dante integrata una fontana nell'atrio della basilica pare fosse un po' più alta dato che le altre ossa erano proporzionate a quelle del cranio siamo autorizzati a immaginare un marcantonio sui 26-28 metri qualcosa come uno stabile di otto piani e i conti più o meno tornano se tre frisoni sovrapposti famosa la frisia per produrre pezzi d'uomini non avrebbero raggiunto la zazzera del gigante dal ciglione dell'argine che per così dire gli fungeva da mutanda per i zoma secondo che Dante leggeva nella Bibbia era il grembiule di foglie che copriva le pudenda di Adamo ed Eva e in considerazione del fatto che la clavicola nel punto dove si affibbia il manto sembra di stare dallo stesso ciglione poco meno di sette metri e mezzo tanti sono trenta gran palmi lo studioso non mancherà di osservare Raffel Mai Amec Zabi Almi l'urlaccio articolato dell'omone tronca la laboriosa computisteria d'altronde come aspettarsi da quella bocca più soavi giaculatorie Virgilio lo rimbecca scemo contentati del corno se vuoi sfogare la rabbia o chissà che toccati il collo e troverai la bandoliera la soga a cui sta appeso non vedi anima balorda che ti pavesa il petto poi si rivolge al discepolo e spiega si accusa da sé tradito è Nembrot per la sua empia pensata coto e fiorentinismo dal latino cogito nel mondo non si usa più un'unica lingua lasciamolo stare non perdiamo tempo a parlare con lui non c'è linguaggio che capisca così come il suo non lo capisce nessuno Nembrot ebraico Nimrod era nipote di Cam e stando al dettato biblico fu il primo ad essere potente sulla terra poderoso cacciatore al cospetto dell'altissimo e fondatore di città sul corso del tigri sulla scorta delle versioni greca e latina del genesi che aveva per le mani Sant'Agostino lo qualifica di gigante cacciatore contro il signore idio e aggiudica alla sua vacua iattanza il progetto biblicamente anonimo di edificare nella regione di Senaar la famosa torre di Babele Dante che scolpirà Nembrotti in basso rilievo sul pavimento del primo terrazzo del purgatorio ad esempio di superbia castigata mostra di attenersi alla tradizione patristica anzi la integra nel De Vulgari con la notazione che il blando castigo di Dio sgranando il sacro idioma comune fino ad allora al genere umano in una moltitudine di gerghi corporativi non comunicanti assegnò agli empi babilonesi linguaggi tanto più rozzi e barbarici quanto più elevato era stato il ruolo di ciascuno nell'impresa edilizia lasciata a metà unico architetto progettista Nembrotti dannato in eterno ad accozzare relitti irriconoscibili della lingua di Dio e degli ebrei in un blatterio che capisce lui solo meno espressivo del raglio di un corno da caccia inebetito dalla solitudine per evitare il protrarsi di quella conversazione sordomuta i due viandanti allungano il tragetto scorrendo verso sinistra in parallelo all'orlo dell'ultimo abisso e ad un tiro di balestra si imbattono in un secondo colosso assai più feroce e grande ha il braccio sinistro piegato e costretto per davanti il destro per di dietro sulla schiena da una catena enorme sa Dio chi è stato il fabbro che fissata al collo gli avviluppa in cinque spire la parte del corpo che sbuca dal pozzo Virgilio spiega questo superbo volle sperimentare la sua potenza contra il sommo giove ecco la ricompensa fialte a nome e si esibì al suo meglio quando i giganti misero paura agli dei ha menato le braccia all'impazzata non le muove più gigante per gigante a questo punto Dante vorrebbe vedere con i suoi occhi lo smisurato briareo e Virgilio gli comunica che vedrà Anteo invece il quale per non essere lontano per aver per l'uso della parola e per non essere incatenato automaticamente si candida alla funzione di deporli nel fondo di tutte le colpe reo sostantivo vale anche qui colpa quanto a quell'altro briareo è molto più in là legato come questo i fialte della medesima stazza sebbene la sua faccia sia ancora più orrenda da vedere e si scatena il sisma ma il terremoto balbette il poeta è stato così violento e improvviso da scuotere una torre così forte come fialte a scuotersi fu presto e confessa il poeta di non aver mai temuto tanto la morte anzi che a farlo morire sarebbe bastato allora lo sgomento la dotta è gallicismo se non avesse visto le ritorte che imprigionavano quel forsennato basta i due procedono finché non raggiungono Anteo il quale eccede il bordo roccioso di ben cinque alle testa esclusa alla ecco il rispettivo nord europeo del fiorentino canna e vale più o meno sei piedi insomma Anteo avrà più o meno la stessa taglia di Nembrot per convincere il gigante alla mansione veicolare che prudenza gli assegna Virgilio esibisce tutto il suo garbo su asorio l'ipotesi che voglia divertirsi alle spalle di un bietolone non sta né in cielo né in terra figurarsi nel fondo dell'inferno dice o tu che nella fortunata valle che fece scipion di gloria reda quando Anibal cosuoi diede le spalle in altri termini tu che nella fausta valle del torrente Bagrada la quale conferì a Scipione col cognome africano eredità di gloria quando Annibale con l'esercito cartaginese fu messo in fuga insomma tu che dalle parti di Zama catturasti ai tuoi tempi moltitudini di leoni per nutrirtene e che se avessi partecipato con i tuoi fratellastri giganti alla gran battaglia di Flegra ricordiamo l'invettiva di Capaneo c'è chi non esclude essi avrebbero avuto la meglio sugli dei dell'Olimpo non offenderti tu di depositarci dove il gelo serra cocito in lastra di ghiaccio non ci obbligare a far capo a tizio o a tifo questo che viene con me può soddisfare il desiderio che condividi con tutti gli ospiti di qua giù chinati dunque non stornare la faccia cruciata e non torcerlo grifo certo costui può rinfrescare nel mondo la memoria delle tue gesta dato che è vivo e promette di vivere ancora a lungo sempre che la grazia divina non lo chiami a sé anzi tempo così detto il maestro tira il fiato e Anteo senza portempo in mezzo allunga le mani di cui Ercole sperimentò la stretta poderosa e lo raccoglie dall'orlo del pozzo figli della terra gea e del sangue sgrondato dai genitali del cielo urano che Saturno crono aveva mozzato con una falce d'acciaio i giganti sono divinità preagricole e rudimentali sacri alla sedizione e alla sconfitta non figurano oggetto di culto esiodone celebre imprese genealogia ma Omero e la sua grande scuola li ricordano tangenzialmente lasciandone un'impronta scontornata nell'epos romano e nel leggendario romanzo Dante riordina gli accenni disseminati nei suoi classici latini in una esigua distinta che ricava sostanzialmente dalla farsaglia e inquadra parrebbe nel canone esteso di giganti e titani che verosimilmente leggeva nel repertorio mitologico compilato nel primo secolo avanti cristo dall'erudito gaio giulio igino sulla favola di anteo concepito da gea terra negli antri di libia dopo la caduta dei giganti e signore della valle del bagrada lucano si diffonde se atterrato in combattimento e fama recuperasse integre le forze dal contatto con la madre e appunto tenendolo sollevato da terra all'ennesimo round ercole lo stritolerà nella morsa delle sue braccia l'indigeno che nel quarto libro della farsaglia racconta al tribuno curione lui il memorabile match fra i due colossi oltre a fornire diversi spunti all'appello adulatorio di virgilio l'ipotesi che la presenza di anteo a flegra avrebbe potuto determinare la sconfitta degli dei d'olimpo la notizia della dieta leonina del gigante la celebrazione di scipione enumera dei fratellastri caduti tifon tizios e briareus ferrox di questi tre dante accantona gli aberranti caratteri somatici che presentano nelle favole antiche e sconfessa all'esemplare specificità delle pene che li affliggono sulle pagine dei classici tifo o tifone o tifeo così come non giace sepolto da giove sotto le lave dell'etna ha sicuramente dimesso la sconfinata apertura di braccia che gli consentiva di toccare con una mano l'alba e con l'altra il tramonto le cento teste di drago e le tortili gambe di serpente tizio il quale non patisce supino nel fondo del tartaro il becco insaziabile dell'avvoltoio che gli divora il fegato deve essersi sbarazzato della sua natura fallica e aver sensibilmente ridotto i nove iugeri d'altezza pari a metri 1870 circa che gli assegnano concordi Virgilio e Ovidio e briareo anche lui in purgatorio esemplificherà la superbia punita non volita più fantasma a cento braccia sotto l'olmo enorme e opaco del vestibolo dell'ade Virgiliano dritti in piedi e scaglionati a intervalli regolari in catene sull'orlo del ghiaccio di Cocito hanno tutti analoga stazza e analoghe fattezze antropoidi e patiscono tutti una medesima degradazione quanto a Ifi Alte cui Stazio aggiudica l'intento di scardinare il vasto cielo sovrapponendo il monte Pelio al monte Ossa Ovidio sovrapponendo l'uno o l'altro o entrambi all'Olimpo si noterà come regolarmente associato dai poeti latini al gemello Oto sotto il patronimico Aloides sui testi classici accessibili a Dante figuri col suo nome solo nel repertorio di Igino repertorio che numerando scrupolosamente come accennavamo tutti i giganti flegrei forse ci permette di contare i colossi che nell'immaginazione di Dante montano la guardia all'infimo inferno emblema di arroganza demente e brutale e Fialte copre manifestamente nelle favole antiche il ruolo sovversivo di scalatore del cielo che la tradizione patristica assegna a Nembrot accostandoli sul ciglio del baratro il poeta salda ancora solennemente sacre scritture e mito classico ma a che titolo Nembrot e i suoi primitivi compari presidiano il pozzo dei traditori su quesito la dantistica si affatica da sempre una ipotesi recente di grande eleganza intellettuale tesse una ragnatela di correlazioni intorno alla terzina di Roncisvalle sul ciglio del disco gelato l'urlo rauco del corno di Nembrot associato per antitesi al richiamo disperato di Olifan evocherebbe insieme la disfatta cristiana e il tradimento l'antitesi resta mera congettura tuttavia una serie di concomitanze dà da pensare e dà valore alla convinzione che un qualche nesso simbolico intercorra fra i giganti il corno e il tradimento dell'impero con la concomitante adulterazione della chiesa e che il nesso sia tutt'altro che fragile in ogni caso anche se l'idea di tradimento non sembra attagliarsi benissimo all'ostentata impietà del cacciatore biblico e dei mastodonti tessali la sopraelevazione abusiva della crosta terrestre o per impresa edilizia o per accumulo di montagne comporta indubbiamente un'organizzazione del lavoro che integra la protervia del singolo gesto eversivo in una trama sediziosa in una cospirazione contro i celesti e sant'agostino precisa che come babele o babilonia che si voglia dire significa confusio nembrot significa appunto conspirazio ribelli agli dei e complici nella costruzione di un rudimentale grattacielo di montagne accatastate gli antichi giganti patiscono l'infame minorazione di vedersi pietrificati nel torpore minaccioso delle torri che sembrano e sono mentre i fialte il capomastro pazzo assomma in sé spaventosamente la mole della torre e il furore del terremoto che la scolla ma allo spavento di Dante pellegrino è torre perfino anteo il fratellastro dei colossi di tessaglia con tutto che sia il meno ebete capisca il linguaggio umano e si possa muovere e torre perfino nel muoversi appena si è sentito raccogliere dalla manona di Anteo Virgilio si è stretto al tetto Dante così da fare con lui un unico fascio e il pellegrino scrutando ora terrorizzato il moto del gigante che prende a chinarsi per depositarli sul ghiaccio ha la sensazione di vederselo precipitare addosso come chi disposto sul lato verso cui pende guardi la torre bolognese della Garisenda al tempo di Dante ben più alta di oggi quando una nuvola le trascorre sopra in direzione opposta alla pendenza che la nuvola sembra ferma e la torre crollare qualsiasi altro veicolo e percorso avrebbe preferito il pellegrino ma Anteo depone i poeti viaggiatori nel fondo dell'inferno che incorpora Lucifero e Giuda con delicatezza e subito torna a rizzarsi e non senza sollievo il povero pellegrino contempla ora di sotto in su il gigante purrito altissimo rigido assiale come l'albero maestro visto dalla tolda della nave ripensandoci che strano castello questo malebolge con il fronte esterno ricordate la meticolosa similitudine iniziale guarda verso l'interno e contiene i fossati che loro cingono come a proteggerlo dall'avoragine del pozzo verso il quale converge e il pozzo si svela a sua volta per un castello concavo cinto da torri due fortezze speculari e concentriche serrano lo sterminato reclusorio anulare dei frodatori fra la sabbia rovente dell'estrema violenza e il ghiaccio del tradimento dell'amore della sabbia